Ciao, io sono Fox e sono un consulente energetico. Se hai cliccato su questo video è perché sicuramente sei interessato alla tecnologia del fotovoltaico, pannelli solari, risparmio energetico. E allora il problema che io sottolineo anche nel titolo è non posso accedere ai bonus. Bonus 110, bonus 50, bonus ristrutturazione. Come tale non posso avere un impianto fotovoltaico super scontato. Come sai col bonus 110 quasi non lo paghi l'impianto. Col bonus 50 lo potrai pagare al 50%. Sai anche che nell'ultimo anno i prezzi di questi componenti, di questi materiali si è alzato a dismisura. E allora io nel mio lavoro in questi ultimi mesi sto entrando in contatto con tantissimi di voi che vogliono avere risposte, vogliono aiuto e vogliono consigli per, sia per sapere quali componenti dover acquistare, poter acquistare. E anche una mia valutazione sui vari preventivi ricevuti. Ragazzi io ho letto preventivi di impianti fotovoltaici che fanno davvero paura. Preventivi di impianto fotovoltaico, ti faccio questo esempio, da 3 kilowatt preventivati a 10, 11, 15 mila euro. Da 5 kilowatt arrivano anche a 20 mila euro. Da 6 kilowatt con accumulo 30, 35 mila euro. Ragazzi prezzi assurdi. Per chi accede al bonus 110 non ha problemi. Perché paga quel poco per la burocrazia. E basta, non deve uscire tutti questi soldi. Per chi deve accedere al bonus 50%, gli pesa, inizia già a pesare. E nello stesso tempo paga anche tantissimo. Perché paga tantissimo. Però per chi, e siete tanti quelli che mi contattate, e oggi voglio rispondervi sia a voi che a chi sta guardando questo video e non mi conosceva prima di oggi. Vuole un impianto fotovoltaico? Vuole risparmiare? Vuole iniziare ad accedere al mondo dell'energia gratis? Anche se non calcolando l'acquisto degli impianti, nel concreto sì, ragazzi, è energia gratuita, energia verde. Perché andiamo a convertire il sole in energia elettrica. Perciò se anche tu stai cercando pannelli solari, componentistica, per costruirti il tuo impianto fotovoltaico e risparmiare, puoi contattarmi. Ti lascio sotto tutti i riferimenti. Quindi contattami, prenota una consulenza, sono a tua completa disposizione. Attenzione però, lo scopo del video non è questo. Lo scopo del video è dirvi che, anche per voi, si può risparmiare. Perché? Grazie allo sponsor, agli sponsor del canale, come sa chi mi segue, io lavoro giornalmente per aprire nuove collaborazioni con lo scopo di poter riservare a tutti i miei iscritti al canale e a tutti quelli che mi seguono sui vari social. Se non l'hai fatto, iscriviti, mi raccomando, attiva anche la campanella. Grandi sconti, grandi promozioni, riservate solo a voi. dello sponsor più grande che abbiamo oggi nel canale. Ed è uno dei più grandi fornitori, produttori e grossisti nel mondo del fotovoltaico. Loro commerciano pannelli solari fotovoltaici, ragazzi, quelli belli, quelli grandi, quelli utili a te, se vuoi risparmiare. Ti faccio questo esempio. Pannelli fotovoltaici che vanno da 280 watt policristallino a 500-600 watt circa come monocristallino. Parliamo, ragazzi, di pedane enormi contenenti pannelli solari fotovoltaici. L'unico contro di tutto questo può essere questo, ragazzi, che trattandosi di grossisti loro lavorano sulle quantità. Non posso aiutarti ad avere uno, due, tre, dieci pannelli sfusi come fanno tutti i negozianti in giro per Italia. Però, ragazzi, loro te li fanno pagare cari e salati. Il mio aiuto è quello che posso metterti in posizione di acquistare un pallet intero di pannelli solari fotovoltaici, un pallet contenente 30, 35, 40 pannelli solari fotovoltaici. Il numero dipende dal modello perché in base al battaggio loro sistemano i pallet ben definiti, non scorporabili, cioè non divisibili. Ok? Perciò, ragazzi, il segreto qual è? quello che stiamo ormai portando avanti da qualche mese con tantissimi di voi che già mi hanno contattato e che vogliono e hanno acquistato questi pallet. Organizzatevi con amici, parenti, conoscenti, così da suddividervi le spese. Ok? Vi faccio un esempio. Siete in tre, volete 10 pannelli cada uno, acquistate il pallet da 30 pannelli, loro lo spediranno, ve lo consegneranno a casa vostra tutto intero, poi voi vi dividete i pannelli. Così, ragazzi, avete diviso la spesa. Vi sono costati nulla? Vai sul canale, trovi tanti altri video dove parliamo di questi pannelli che lo sponsor mi ha inviato per farvi vedere. Sono, ragazzi, dei 360 watt di picco, circa 370 monocristallini perk bellissimi. Vi metto comunque qua sotto delle foto così da poterle vedere. perciò se anche tu vuoi iniziare a risparmiare sappi che pure per te c'è la soluzione. Qui non serve nulla, non servono bonus, non serve autorizzazioni, non serve avere l'immobile tutto in regola perché uno dei tanti problemi che quando mi contattate mi comunicate ciao Fox io purtroppo a casa mia ho qualche problema col catasto io non entro in merito e non vi dico nulla però so che questo è un grave problema per chi vuole accedere ai bonus perché una delle motivazioni più importanti per la quale tu sei esonerato dall'accedere a questi bonus è appunto avere problemi col fisco col catasto l'immobile a qualche problema di registrazione o è abusivo ecco a qualche parte abusiva lo stato italiano ha imposto che per accedere a questi bonus gli immobili devono essere al cento per cento il regola in una consulenza io ti spiegherò come funziona l'ordine dallo sponsor in un paio di giorni faremo tutto in una due mail al massimo se realmente sei interessato tu avrai prenotato il tuo set di pannelli parlando sempre di pallet pallet ragazzi 500 600 kg pallet enormi ti verranno consegnati comodamente a casa tua e considerando gli aumenti che ci sono oggi nel mercato perché ragazzi oggi tutto costa di più perciò è il problema più grande perché tu mi dirai ma io riesco a trovarmeli non è così semplice non è così semplice reperire i pannelli solari può essere semplice reperire gli inverter i regolatori di carica ma per tutto il resto ragazzi non è assolutamente semplice sto anche stringendo accordi sempre per voi con nuove aziende una nello specifico è un'azienda che potrebbe aiutarci nell'installazione dei pannelli non vi anticipo nulla perché ancora non c'è niente di concreto però nelle prossime settimane vedremo però anche per questo ragazzi restate sempre sintonizzati sul canale vi raccomando così da non perdervi nessuna novità in arrivo perciò iscriviti ciao se il video ti è piaciuto lasciami un bel like commenta se vuoi abbonati al canale arriveranno grandi 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 novità anche sugli sponsor un nuovo sponsor questo ve lo posso dire perché è già confermato sugli inverter inverter regolatori di carica e gruppi di accumulo già pronti tipo power one di tesla ma non sono di tesla ragazzi ciao e al prossimo video